Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di, precisamente questa è una notizia di servizio ovviamente interesserà chi abita in Milano e provincia allora per quanto riguarda Intimo Reggiseni Plytex per taglie forti allora vi voglio consigliare Plytex Support che è questo reggiseno allora questo reggiseno è uno dei migliori che ci sono in circolazione secondo me perché è senza ferretto è fatto in modo da sostenere a la fascia larga sotto allora per chi diciamo è una tagliaforte normale anche come reggiseno deve indossare cioè ha una forte taglia questo è il reggiseno migliore perché è fatto apposta per sostenere e non ha l'odioso ferretto perché comunque tante di noi fanno fanno molta fatica a diciamo mettere reggiseni col col ferretto fanno male eccetera io sono una di quelle che comunque odia i reggiseni col ferretto proprio perché mi fanno mi fanno male allora le taglie so almeno questa è il riferimento taglia italiana con le varie taglie straniere questo è il codice del prodotto questo diciamo è come è fatto il prodotto allora 97 76 per cento poliammide 14 per cento cotone e 10 per cento elastana allora questo per farvi vedere il prodotto allora la cosa che i prodotti della playtex soprattutto quelli come dire per le taglie forti si fanno fatica a trovare io ho trovato un negozio io ho trovato un negozio a milano che vende la playtex e il negozio si chiama nera toffoloni e si trova in piazza san materno a milano allora in pratica ci sono due modi per arrivare a piazza san materno a milano allora il primo modo se non volete fare tanta strada e scendere alla metro rossa loreto poi da loreto c'è pullman il 58 adesso non mi ricordo più il nome della fermata quindi diciamo devo 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 vedere comunque mi pare che sia angolo via ampere ecco e questa è la è la fermata diciamo più vicina poi dopo vi fate un pezzettino di strada a piedi sono mi pare o 200 o 300 metri e c'è il negozio il negozio apre alle nove e mezza da lunedì al sabato alle nove e mezza e chiude se non mi sbaglio non mi 12 30 o 13 30 e riapre alle 15 e 30 fino alle 19 30 in questi sono gli orari del del negozio prima che mi scordo di dire di dire gli orari riuscite diciamo a a vedere la la vetrina del negozio molto bene perché anche una vetrina molto colorata almeno da chiuso questo se arrivate prima delle delle nove e comunque è l'ultimo negozio in fondo a piazza san materno all'angolo con via accademia le entrate in via accademia però quindi diciamo girate l'angolo un metro e c'è l'entrata del del negozio è un bel negozio perché ci sono tante cose per le per le taglie forti e fa anche da da merceria poi ritorniamo al discorso come arrivare allora il primo da loreto metro rossa si prende il bus 58 e e la fermata è angolo via ampere lì dovete scendere vi fate 200 300 metri poi il secondo metodo se volete camminare un pochino sempre la metro rossa scendete a pastor che è la fermata dopo l'oreto e poi e poi dopo prendete non mi ricordo più la via devo controllo e poi ho Allora, per arrivare al negozio, si scende in via Pastor, alla fermata Pastor che è quella subito dopo Loreto, poi si fa via Pastor, via Daviano, in pratica tutto dritto, e poi si arriva in Piazza Durante. Dopo Piazza Durante si va sempre di dritto e si fa via Casoretto, e poi dopo via Casoretto c'è Piazza San Materno che divide il primo pezzo di via Casoretto con il secondo pezzo sempre di via Casoretto, quindi è proprio in mezzo. In pratica, subito dopo la chiesa, via Casoretto, la chiesa, poi Piazza San Materno, e siete arrivati. E il negozio è all'angolo Piazza San Materno via Accademia, e su questo siamo a posto. Mentre invece da Loreto Da Loreto, invece, bisogna prendere il 55 e scendere alla fermata. Allora, o si scende in via Costa, oppure, diciamo molto più semplice, si scende in via Casoretto, la parte di via Casoretto dopo Piazza San Materno, all'angolo più o meno con via Teodosio. Si scende lì e siamo a posto. Però, diciamo, io di solito scendo sempre in pastore e mi faccio il pezzettino a piedi per camminare, che comunque camminare male non fa. Spero che le informazioni vi siano utili. Ah, volevo anche dire che comunque, oltre alla Plytex, trovate anche marche come la Sloggera Triumph. Quindi, diciamo, se vi serve qualche cosa, qualche cosa, diciamo, di più difficile da trovare, andate perché comunque trovate un bel po' di roba. Vi saluto, ciao a tutti!